Cristian! Non è mangiato niente oggi a pranzo, eh? Lei ci fate pancia? No, ma ce lo fanno. Sicura? Sì. Bella te mamma, senti quanto è tosse. Non mi fa male. Siete fatte per fare figlia? Non spreco mettere la lavora. Parlamo si chi è. Composita! Vienes! 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 Vai, 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 vai! Bazzoni! Ecco! Eeeeeee! Eeeeee!